Io ho scelto camoscio e pelle. Io camoscio e mi sento già molto alta. Sono molto comode. Adesso proviamo in piedi. Sì, sì, sono molto comode. Dopo la prima sensazione che ti devi adattare, il piede si adatta subito. Poi essere comode e alte, credo che sia il massimo che si può desiderare. Adesso più li porti, più ti senti comodissimi. Io sto comodissima. Quindi Carolina, sono di tutto camoscio. Gialle, blu, pelle blu o qualsiasi altro colore, anche immaculato, si possono fare. Bello, verde militare, tutti questi colori spessivi. Sono molto leggeri. Quindi c'è una grande scelta. E sono pure più alti. Sono 12,5. Arriviamo al 12,5. Buona idea, vero Silvia? Ottima, considerando che c'è la bellezza associata alla comodità, perché sono in realtà comodissime. Cioè si ha la possibilità di portare delle scarpe molto alte, alle quali abbiamo ormai un po' rinunciato, con estrema comodità. Beh, mi sembra nuovo di colombo. Che non stressano il piede. No, assolutamente. Tutto artigianale. Il rialzo è interno e quindi esternamente non sembra neppure che ci sia questo tacco. E' stato proprio studiato perché così non si può vedere nulla. Beh, direi che ci ha convinto, vero? Direi proprio di sì. Mi sono sentita alta con comodità. Ecco. Grazie, che ho stesso tempo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti